Buonasera a tutti, io sono Mayla e sono una formatrice dei gruppi Darsi Pace e questa sera sono qui insieme alla mia amica Barbara, Barbara Soligoi, anch'essa formatrice ma da molto più tempo di me, da oltre dieci anni. Se siete interessati a sapere che cosa facciamo nei nostri gruppi potete consultare il sito in sovraimpressione. Barbara, oltre a essere una formatrice, è anche un medico ricercatore del settore epidemiologico delle malattie infettive ed è anche un insegnante di yoga, quindi ha una formazione veramente completa a 360 gradi ed è l'interlocutrice ideale per parlare di un tema che ci tocca veramente tutti da vicino, che è appunto lo stress e la gestione dello stress. E quindi volevo chiederti Barbara, se è vero, come spesso sentiamo dire, che lo stress in una società frenetica e da ritmi estremanti come la nostra è una delle forme di malessere più diffuse che minacciano il nostro equilibrio psicofisico. Ecco, quindi tu da medico e da insegnante yoga puoi darci veramente un'opinione completa su questo. Sì, allora intanto è vero che il problema dello stress è molto diffuso, tutti lo sentiamo, però cominciamo a dare qualche definizione per inquadrare meglio la situazione. Cosa significa stress? Lo stress è uno sbilanciamento che può subire il nostro organismo, la nostra mente e che può essere dovuto a fattori esterni, mettiamo per esempio un trauma fisico o anche fattori interni, per esempio una perdita affettiva oppure un superimpegno di carattere lavorativo che ci pesa. Quindi questo è lo stress e si oppone invece a quello che viene chiamata omeostasi, cioè quella condizione di equilibrio nella quale il nostro fisico riesce a reagire bene a tutti gli stimoli esterni. Facciamo un esempio semplice. Quando andiamo in autobus e stiamo in piedi, riusciamo a mantenere la posizione in piedi nonostante l'autobus faccia le curve, freni, ci siano le persone intorno che ci spingono, però noi riusciamo comunque a stare in piedi, a mantenere l'equilibrio. Quindi reagiamo a tutti questi fattori esterni riuscendo a mantenere una nostra unicità, integrità. Ecco quindi un modo per rispondere agli stress in modo da mantenere l'omeostasi. Ecco però ci sono appunto molti fattori che minacciano questo equilibrio, giusto? Non è che sempre siamo un'omeostasi, anzi, direi. No, assolutamente. Infatti è proprio vero che la nostra risposta dipende da due fattori. Innanzitutto il livello dello stress e secondo la nostra capacità di reagire allo stress. Vediamo questo schema, è un grafico, ma non ci dobbiamo confondere. Adesso io vi accompagno a seguire e a comprendere il grafico. Allora, nell'asse orizzontale vediamo che è indicato il livello di stress, cioè da sinistra, dove il livello di stress è molto basso, si va verso destra, dove invece il livello di stress cresce, quindi l'intensità dello stress cresce. Sull'asse verticale invece abbiamo il nostro livello di performance, cioè la nostra capacità di risposta, che va da un livello basso, nella parte inferiore della retta, a un'alta capacità di performance nella parte alta della retta. Allora, vedete che se noi abbiamo un basso livello di stress, normalmente la nostra reazione non è molto elevata, non abbiamo una grande performance, tanto che quasi quasi rischiamo la noia, vedete, in basso a sinistra. Mano a mano che il livello di stress, quindi che lo stimolo esterno diventa più intenso, la nostra capacità di reagire aumenta, si perfeziona, fino ad arrivare in quella zona centrale, che vediamo evidenziata in grigio, che è dove lo stress ha un livello medio, moderato, ma la nostra capacità di risposta allo stress è massima, è ottimale. Adesso cosa succede? Se lo stress però aumenta, sia in termini di intensità che in termini di durata, non riusciamo a reagire più altrettanto bene, è come se ci impallassimo. E quindi vedete che la curva nella parte destra del grafico scende, cioè la nostra performance diminuisce progressivamente, finché non si arriva alla parte estrema, a destra, dove vediamo che si può giungere anche a livelli di ansia, di infelicità, di grave depressione, cioè nel momento in cui lo stress è molto elevato, molto perdurante, e noi non riusciamo a rispondere bene. Questo è quello che viene generalmente chiamato il distress, cioè lo stress negativo. Ecco, però è molto interessante quello che ci dici, perché esiste anche l'eustress, che è lo stress positivo, invece noi siamo sempre abituati a pensare allo stress in termini negativi, quindi, insomma, questa è una buona notizia, no? Che esiste addirittura uno stress positivo. È vero, è vero, infatti normalmente noi consideriamo lo stress comunque un elemento negativo, invece dobbiamo incominciare a pensare che lo stress può essere anche avere dei connotati, degli elementi positivi. Facciamo un esempio. Ci sono dei tipi di stress o stressor, dall'inglese, che sono denominati evolutivi, cioè che vuol dire che ci hanno aiutato ad evolvere nella nostra storia dell'umanità. Pettiamo uno di questi stressor evolutivi, per esempio, è il rischio di attacchi, che l'uomo preistorico ha sempre dovuto affrontare, rischio di attacchi da tribù avverse, nemici, animali, oppure la paura per vivere in condizioni difficili. Pensate, l'uomo che non aveva né luce né fuoco, viveva al buio, oppure in situazioni comunque ambientali sconosciute, quindi molto pericolose. Ecco, che cosa succedeva? In questo caso, l'uomo preistorico, nei millenni, ha sviluppato una capacità di rispondere a questa situazione di pericolo così composita. E qual è questa capacità? Un'attenzione massima alle condizioni esterne, anche per esempio a qualsiasi segnale di pericolo, a suoni che siano sospetti, a movimenti che ci mettono in allarme, o anche semplicemente a condizioni che ci suonano sconosciute, difficoltose, che ci mettono a disagio. E qui, appunto, la reazione qual è? Il batticuore, l'ansia, la paura, il fiato corto. Questo quindi è stato, diciamo, la risposta che l'uomo ha sviluppato antropologicamente per rispondere a quel tipo di rischio. E questa risposta è stata fondamentale perché gli ha garantito la sopravvivenza. Quindi ecco che alcune risposte a stressor, anche ripetuti e prolungati, sono state caratterizzate da un benessere enorme perché noi, diciamo, tutta la razza umana ancora sopravvive ed esiste grazie a questa capacità di reazione. Però vediamo come c'è anche un retro della medaglia, nel senso che nella condizione attuale, nell'epoca moderna, dove le situazioni di pericolo non sono più quelle delle bestie feroci o dell'attacco delle tribù nemiche, questa capacità di reagire, di controllare tutto, si trasforma in una condizione di ansia, spesso di insonnia, di paura, di sviluppare malattie cardiovascolari, per esempio questo batticuore che dicevamo prima, oppure pressione alta, o bruciole di stomaco. Insomma, vedete come lo stress che diventa una chiave che ci permette di sopravvivere, se in condizioni diverse viene mantenuto, può diventare anche pericoloso e controproducente. E si riflette proprio poi sull'organismo. Noi molto spesso somatizziamo gli effetti di uno stress che è prolungato e che non riusciamo molto bene a conoscere, a capire e ad affrontare. Ecco appunto, ma in situazioni di stress prolungato, sappiamo che spesso ci capivano delle situazioni che non dipendono da noi, sono situazioni esterne, difficili. Ecco, in caso di stress prolungato, però noi possiamo fare qualcosa, possiamo comunque trovare delle risorse, degli strumenti che ci aiutano a viverlo diversamente. cioè quindi anche una situazione oggettivamente difficile può cambiare in base alla nostra risposta. Quindi volevo chiederti, proprio perché sei medico e insegnante di yoga, quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter attivare una risposta positiva anche in una situazione oggettivamente difficile? È giustissima la tua domanda anche perché ci pone di fronte alla nuova capacità che dobbiamo apprendere di identificare lo stress acuto e quindi capire che lo possiamo gestire perché si circoscrive in un tempo breve e invece imparare a riconoscere lo stress prolungato e troppo intenso che invece ci può fare del male. Allora, facciamo degli esempi perché in realtà lo stress cronico, cosiddetto, il distress di cui abbiamo parlato prima, può essere affettato secondo vari punti di vista, sotto vari aspetti. Pensiamo all'esempio che abbiamo fatto prima, per esempio quello del trauma fisico. Lavorare sul corpo, conoscere meglio il corpo, rinforzarlo, non soltanto, non dico che sia negativo, andare in palestra e irrobustirsi anche dal punto di vista muscolare di resistenza, va benissimo, ma spesso per lo stress cronico è importante conoscere il corpo, abituarlo a una maggiore flessibilità, ad una maggiore consapevolezza che riesca a identificare anche quei piccoli segnali che in modo discreto ci stanno indicando che qualche cosa non va e quindi dobbiamo prendere qualche misura. Il corpo, abbiamo detto. Oppure, dicevamo, un altro fattore di stress può essere un fattore emotivo, affettivo. in questo caso molto spesso si tratta di blocchi che possono essere aiutati o attenuati attraverso principalmente la respirazione. Il respiro è uno strumento meraviglioso che abbiamo e che molto spesso ignoriamo, diamo per scontato. In realtà l'aria e questa forza vitale, questo soffio vitale che ci percorre può aiutarci moltissimo ad conoscere meglio e andare in quelle zone di affettività e di emotività dolenti per sciogliere dei blocchi e riuscire a consentire uno scorrimento migliore insieme con l'aria che respiriamo anche di queste energie vitali che si sono in qualche modo un po' congelate. Il terzo esempio abbiamo detto per esempio situazioni di super lavoro di stanchezza mentale ecco allora per la mente il strumento essenziale è la meditazione e lavorare sulle capacità mentali essendo ben consapevoli che la meditazione non è soltanto un momento di astrazione mentale ma è un imparare a condurre il cervello e nelle nostre capacità mentali verso modelli di pensiero nuovi verso quello che viene spesso chiamato il pensiero laterale quindi modalità di affrontare i problemi compreso lo stress in modo innovativo non percorrere più percorsi mentali che già abbiamo conosciuto e che sono stati fallimentari meditazione come e riplastificare il cervello i neuroni per acquisire capacità nuove che sono dentro di noi ma che stanno lì tutte buone dormienti invece noi le possiamo risvegliare proprio grazie alla meditazione dovuta come risposta allo stress direi che ci hai dato tante notizie positive oggi uno che è lo stress è una componente della vita che non possiamo assolutamente evitare anzi per certi versi è anche un motore che ci spinge ad affrontare certe situazioni a metterci in gioco a tirare fuori delle capacità delle potenzialità quindi non è di per sé negativo ma anche in situazioni comunque di stress prolungato noi possiamo attivare delle risposte positive non siamo semplicemente passivi non dobbiamo per forza ricevere tutto passivamente ma possiamo attivare una risposta e anzi cambiare quei percorsi di pensiero che magari ci portano sempre alle stesse conclusioni ecco quindi direi che sei stata molto seostiva e grazie per questo tuo prezioso contributo grazie grazie spero che questo sia utile per metterci diciamo un po' in un punto di vista diverso cioè lo stress c'è imparare a riconoscere gli stress acuti possiamo farlo e trovare delle soluzioni per quel momento però essere anche sufficientemente preparati a riconoscere quando lo stress sta diventando di stress cioè quello che ci può fare del male cioè lo stress che si prolunga molto e che ha un livello come abbiamo visto elevato e che stava nella parte destra del grafico però se noi utilizziamo tanti strumenti che abbiamo a disposizione che la medicina lo yoga tante discipline ci hanno messo e a disposizione che possiamo utilizzare oggi sicuramente passino passino riusciamo ad affrontarli per vivere più liberi più leggeri e più in salute ecco noi per questa sera ci fermiamo qui però ecco se siete interessati a questo tema fatecelo sapere scrivete dei commenti magari anche a cosa esattamente siete interessati perché noi possiamo approfondire ognuna di queste tematiche ognuna di queste tematiche è amplissima appunto noi oggi abbiamo semplicemente voluto dare delle idee e degli spunti ma saremmo ben contenti di continuare con queste interviste e approfondire appunto questi temi in maniera più completa e vi ricordo di nuovo di visitare il nostro sito www.darsipace.it dove potrete scoprire tutte le bellissime attività che facciamo nel nostro movimento grazie Barbara e ciao a tutti grazie un saluto a tutti grazie Mayla grazie